Un po' di anni fa, eravamo nel 1995, in quanto responsabile di un'associazione non profit per la difesa delle piccole radio e televisioni locali, venne ricevuto a Montecitorio nella Sala della Regina dal Presidente della Commissione Speciale per il Riordino del Sistema Televisivo, Giorgio Napolitano. Fu un colloquio molto breve e scarno perché mi limitai a porre una sola domanda. Secondo lei, chiese a Napolitano, lo strapotere di Fininvest, poi in seguito ribattezzata Mediaset, è destinata a perpetuarsi o questa Commissione in qualche modo sarà in grado di condizionarlo. Egli mi rispose duro, sarà fatto tutto secondo la legge. Qualche tempo dopo la Commissione venne sciolta e ebbi la vera risposta che mi aspettavo. Fininvest ne uscì rafforzata e vincitrice sotto tutti gli aspetti. Da allora presi a seguire l'attività del finto comunista napolitano e mi accorsi che era sempre pronto a scattare sull'attenti, metaforicamente si intende, di fronte al grosso capitale e agli Stati Uniti. E lo fece anche quando decise di violentare la costituzione repubblicana italiana, spingendo e incitando a bombardare la Libia. Un paese martoriato, che non dimentichiamo mai, che rispetto alle altre nazioni del Nord Africa era l'avanguardia in quanto a benessere e stato sociale. Oggi gli Stati Uniti, seguiti dai loro famigli europei, sono pronti a scattare, a invadere, a bombardare la Libia, tutto ciò che sarà necessario allo scopo di predare, di rubare qualcosa. Quello è il vero motivo. Però sono in spasmodica attesa di un assenso qualsiasi, che deve venire da un governo libico, che attualmente però non c'è. E allora Napolitano, che non ha interrotto la sua frenetica attività e dappertutto parla, parla, perché non aiuta i suoi amici? Crei lui un governo, ne ha fatto tanti. Sarà sufficiente valersi dei giornali di annunci economici. C'è per esempio il Tagessanziger della Neutrale Svizzera, ottimo giornale, oppure il nostrano Portaportese. L'annuncio dovrà essere molto semplice. Cercasi governo qualsiasi. E riuscirà a formare uno straccio di governo. Dopotutto sarà poco autorevole, fallimentare, tutto ciò che si vuole. Ma i governi che ha formato ultimamente durante la sua presidenza non lo erano altrettanto.